E benvenuti tutti quanti in questo nuovo video, commentiamo la conference call di Microsoft dopo un primo calo di oltre il 6% ha parlato Satya, Nadella e poi la CFO e hanno riportato il titolo in territorio positivo adesso siamo in pre-market sopra l'1% secondo me hanno detto cose veramente importanti e soprattutto interessanti sia per chi è imprenditore, sia per chi è investitore ma anche per chi consuma i loro prodotti e servizi qui ho fatto un copia e incolla dei passaggi salienti la conference call è durata circa un'ora però spero di fare un buon riassunto record quarter e parte subito record signica che sono al loro punto più alto però il titolo è sotto del 14% dai massimi Microsoft Cloud con fatturato in crescita del 32% anno su anno considerate che negli ultimi 5 anni il fatturato cresceva in media del 13% quindi qui siamo molto sopra cosa significa che i price earnings e gli altri multipli abbastanza estesi non dovrebbero preoccuparci troppo visto che la crescita è molto più rapida in questo frangente qui poi arriva la frase un po' filosofica che a me è piaciuto molto la tecnologia digitale è la risorsa più malleabile a disposizione del mondo per sconfiggere i limiti e reimmaginare il lavoro e la vita di tutti i giorni ovviamente queste cose sono già scritte e immaginate a priori da un qualche copywriter e loro le leggono durante questa conference call e qui ci spiega come si stanno posizionando a livello marketing stiamo innovando indispensabile dire una cosa del genere vogliono espandere l'intero portafoglio quindi sono diversificati tra i segmenti per consumatori e tra i segmenti commerciali ovvero per le imprese quindi passa alla trasformazione digitale importantissima in questo frangente è necessario avere un tessuto computazionale a livello computeristico distribuito per riuscire ad essere ovunque a livello di applicazioni a livello di data center sono quelli dove si trovano in più regioni a livello globale proprio e quindi questa è una frecciatina ad AWS di Amazon probabilmente qui parla già di guida autonoma sviluppata da General Motors che si appoggia ad AT&T e loro permettono tutto ciò attraverso il loro servizio in cloud AT&T ci mette il 5G triplicata l'utenza che utilizza Azure Arc stanno aiutando BP, RoboBank e altre aziende a fare la transizione dall'on-premise e l'ibrido al cloud e come ho spiegato in un altro video questi passaggi sono molto costosi a livello energetico ma anche a livello di denaro i cosiddetti switching cost e ovviamente l'on-premise costava di più qui si passa al cloud però non è che un'azienda che fa miliardi e miliardi di fatturato possa passare così da un giorno all'altro e quindi loro stanno aiutando a fare questo passaggio qui poi Metaverso, tema caldissimo e dicono che quello loro è attualmente utilizzato per davvero nelle smart factories, nelle aziende intelligenti, negli edifici intelligenti e nelle smart cities, nelle città intelligenti altra iterazione del Metaverso o meglio per arrivare al Metaverso hanno combinato l'Internet of Things di Azure, Digital Twins e Mesh che sono degli altri servizi che aiutano le persone a proiettarsi nel Metaverso appunto a digitalizzare queste persone, a digitalizzare i luoghi e gli strumenti in modo da visualizzarli e simularli in questo ambiente e da lì loro vogliono fare business in qualsiasi ambiente virtuale o virtualizzato questi nuovi clienti di Azure, CWS Health, Johnson & Johnson Medical Device, Wells Fargo quindi nomi pesanti che hanno giunto nell'ultimo trimestre tema intelligenza artificiale ovviamente non tutte le aziende hanno a disposizione dei data scientists quindi loro vogliono fornire un servizio di data scientists on demand o comunque vogliono consentire alle imprese di esternalizzare questa figura qui e devono dare la possibilità alle imprese di trasformare i dati in loro possesso in potere di fare analisi e previsioni l'azienda crea il dato, sì, oppure lo estrae in un qualche modo poi deve saper analizzare questo dato e deve sapere come usarlo per creare più impression, per creare più fatturato, per qualsiasi cosa e non è un passaggio immediato quindi loro stanno aiutando a fare questa cosa qui anche Cosmos DB è il loro database e dicono che è quello di scelta, of choice, da chiunque in generale ovviamente non entrano troppo nello specifico con queste affermazioni e viene utilizzato ad ogni livello quindi dalla piccola impresa alla grossa corporation i volumi sui dati e le transazioni sono cresciute di oltre il 100% anno quindi molto importante come crescita di questi dati un tema importante ed emergente è sicuramente il controllo dei dati di chi sono i dati che vengono estratti e creati poi passa a dire che hanno il super computer o i super computer più potenti sul cloud altra frecciatina ad Amazon li utilizzano per allenare i loro modelli predittivi di intelligenza artificiale ma li mettono anche a disposizione dei loro clienti ad esempio con GitHub Copilot che aiuta gli sviluppatori di software a scrivere un codice migliore e poi hanno questi Cognitive Services servizi cognitivi nell'ultimo trimestre hanno fatto 30 milioni di ore di discorsi trascritti ed è salito di quasi il 100% rispetto a un anno prima quindi anche qui crescita strabiliante hanno Github, Viswa Studio, Azure Platform as a Service Services e dicono quindi che hanno gli strumenti più popolari per aiutare ogni sviluppatore ad andare dall'idea al codice e dal codice sul cloud quindi altra frecciatina e soprattutto dicono se sei un programmatore e vuoi fare un'impresa devi passare tramite noi segmento Cyber Security le imprese vogliono sicurezza integrata già a partire dal processo di sviluppo del software e quindi loro stanno facendo investimenti in Github per mettere in sicurezza i codici open source qui queste aziende sia Digital Native sia quelle tradizionali Afterpay, Mercari sono quelle digitali 3M e Bosch fanno uso di Github Advanced Security per appunto difendersi già a monte Visual Studio e gli altri servizi PaaS come Container Apps e Chaos Studio aiutano ad alleggerire il processo di sviluppo del software e a costruire applicazioni native sul cloud moderne e più resilienti altro tema importante che sta avvenendo al di fuori di Microsoft low code o no code ovvero per le persone che non sono brave a programmare e che non vogliono fare programmazione stanno spuntando sempre nuovi strumenti e quindi Microsoft ha dotato ad esempio queste aziende qui Airbus, Johnson Control Centrica di questo prodotto chiamato Power Platform per fare automazione dei processi produttivi creare app creare agenti virtuali quindi tipo chatbot o cose che rispondono automaticamente alla clientela e analizzare i dati tutto questo quindi richiedeva sviluppatori di software loro fornendo questo prodotto qui consentono anche a chi non è bravo a programmare di fare tutti questi servizi qua in H&M è utilizzato da 30.000 dipendenti quindi immaginatevi un dipendente di H&M cosa ne può sapere di programmazione però lo utilizzano per incrementare la produttività e hanno creato 1500 applicazioni flow dashboard per gestire la capacity in ufficio e tracciare gli obiettivi dei team Kroger che è una catena di alimentari ha usato la Power Platform per creare un sistema per verificare le condizioni di salute e lo status delle vaccinazioni dei suoi dipendenti o addetti quindi anche qui una value proposition molto forte con questi sistemi appunto per chi non sa programmare utilissimi e sinceramente mi sto gasando più lato consumatore che lato investitore tema supply chain disruption e constraint quindi i limiti alla catena di approvvigionamento secondo lui è necessario diventare iperconnessi mettere tutti i dati nello stesso luogo in modo che diventino fruibili a chiunque e allo stesso modo devono unificare i processi i team all'interno dell'organizzazione e allora hanno Dynamics 365 Connected Space e qui stanno creando una nuova categoria di software e io ve la dico come me la stanno vendendo loro però c'è una cosa strabiliante per aiutare le organizzazioni a gestire le operazioni nel mondo fisico su diverse industrie dall'immobiliare al commercio al dettaglio alle aziende alle costruzioni cipotle, catena di ristoranti messicani home depot, catena di negozi di file a te bricolage a cui comunque si affidano anche dei professionisti si affidano a questo nuovo servizio loro per dar più valore ai dati e connettere ai clienti ai vari touch point per consentire un'esperienza più personalizzata Daimler Trucks Nord America quindi siamo nel gruppo Mercedes utilizza Dynamics 365 per capire dove potrebbero sorgere dei problemi alla supply chain in anticipo annunciato nuovo prodotto sulla logistica per FedEx quindi altra partnership incredibile per far vedere appunto quali sono gli use case delle loro soluzioni poi hanno creato delle offerte sul cloud basate sull'industria quindi sono personalizzate grosso modo solo oltre un anno fa però 12-18 mesi non sono tanto per un nuovo prodotto per accogliere i frutti quindi hanno appena iniziato e dicono che queste offerte cloud specifiche delle industrie aiuterebbero i clienti di queste aziende che comprano i servizi di Microsoft aiutano i clienti a massimizzare il valore che ottengono dal proprio tempo aiutano ad incrementare l'agilità e ad abbassare i costi cloud per commercianti al dettaglio sono stati molto discussi almeno lui dice così in questa fiera in questo evento che riguardava queste aziende qui della retail industry poi hanno creato il cloud for sustainability per far convergere tutti i dati in uno stesso punto e aiutare i clienti a ridurre il carbon footprint quindi a ridurre i consumi e l'inquinamento e qui mi raccommento blockchain killer nel senso molti stanno facendo le blockchain native per così dire in cui dicono ah noi tracciamo tutto quanto così tutta la filiera è sicura e allora magari loro potrebbero chiamare questo cloud for sustainability la loro blockchain nativa a livello di marketing però non ho capito bene se questo è uno use case o se loro non hanno voluto vendersi in quel modo e sfruttare il marketing in quel modo lì nissan sta già utilizzando questo servizio altro fenomeno great reshuffle alcuni la chiamavano great resignation sul mercato del lavoro sempre più persone ripensano a come e dove o perché lavorano e quindi sta crescendo l'importanza di linkedin secondo lui io personalmente linkedin lo odio dice ultimo trimestre interazioni record assunzioni effettuate mediante linkedin salite di oltre il 110% rispetto allo stesso trimestre del 2020 hanno il marketplace dei servizi che ha aiutato quasi 3 milioni di freelancer e small business owner a scoprire nuovi clienti solo per dire che linkedin ha più gente che vende su quel sito lì rispetto a fever che è nata per fare proprio quel lavoro lì linkedin sales solution record hanno fatto oltre un miliardo di fatturato nei 12 mesi qui ancora parla del tessuto digitale che deve essere all'interno di ogni organizzazione per permettere a chiunque al suo interno di essere connesso e potenziato tra virgolette microsoft teams 270 milioni di utenti attivi mensilmente e lo so che sono due business differenti però per dare un numero netflix ha fatto 220 milioni quindi 50 milioni in meno numero assolutamente stratosferico sono state costruite app da atlassians app e workday per i loro clienti appoggiandosi a teams di microsoft quindi i grossi software gestionali che volenti o nolenti passano comunque per microsoft per dare un servizio ai loro clienti united airlines lo utilizza per connettere personale di terra con personale di volo e qui si apre un altro use case per le compagnie aeree quindi mark e spencer che non so chi siano utilizzano teams e questa power up in combinazione per semplificare i processi quando la clientela fa delle richieste di aiuto intorno sempre il tema metaverso attraverso questa mesh vogliono portare il metaverso su teams dovinate chi è la prima ad aver utilizzato il metaverso per creare un luogo di lavoro ma naturalmente una società di consulenza utilizzato per fare delle conversazioni di fronte al dispenser di bevande di acqua oppure anche per fare sessioni di whiteboarding tutte le possibilità del metaverso loro lo usano per fare queste cose geniale e c'è gente che dà lavoro a questa azienda qui 90% delle 500 aziende più grosse per fatturato in america fortune 500 hanno utilizzato teams phone questo trimestre e questo sicuramente è bearish per zoom che ormai è ritornata ai prezzi di metà marzo 2020 anche se sicuramente diranno sì ma la value proposition di teams di zoom è differente non è tanto vero però vabbè poi fanno i walkie talkie che si appoggiano a teams per chi lavora nei negozi tutta questa idea è di zebra technologies quindi che si appoggerà a microsoft teams per questo servizio qua teams essentials basato solo per chi ha una piccola azienda dicono che vedono già una forte domanda per questo servizio qui altri nomi della clientela Heineken Hilton Zurich Insurance passiamo dunque ad un altro tema sta crescendo la domanda dei computer se prima c'era una forte crescita per gli smartphone adesso si ritorna un po' alle origini la gente si sta rivolgendo ai pc per esercitare il loro potere di agenzia e sbloccare la loro creatività le persone si stanno voltando verso i computer per esercitare il loro potere di agenzia e sbloccare la loro creatività e questo su vari livelli dalla realtà virtuale al lavoro da remoto a chi scrive codice a chi fa documenti in collaborazione chi fa video chi gioca al computer chi fa design di grafica o di ingegneria stanno vedendo un rinascimento del computer quindi probabilmente è interessante guardare anche azioni tipo hpq o cose del genere è salito il tempo speso al pc e sono saliti i pc in ogni casa hanno lanciato windows 11 da tre mesi e sono molto soddisfatti di questo lancio dicono che lo stanno utilizzando molto e con qualità maggiore e che windows ha incrementato la sua quota di mercato in questo trimestre hanno introdotto windows se che è sul cloud ed è pensato appositamente per le scuole per le aziende come regeneron pharma hanno windows lanciato sul cloud così tutti gli impiegati hanno windows su ogni dispositivo e all'omento ci sono 1,4 miliardi di dispositivi attivi su cui gira windows 10 o windows 11 windows 11 sta vedendo il triplo dell'attività sull'app store rispetto a windows 10 però diciamo che vuol dire qualcosa ma non vuol dire tutto perché magari questi sono i primi utenti che sono passati a 11 i primi smanettoni e quindi è normale che loro interagiscano di più poi magari si mantiene stabile ma non credo sarà così bing ed edge quindi il loro browser per navigare su internet e il loro motore di ricerca sono ad elevata esperienzialità o meglio loro dicono che sono così poi non è detto sia a livello consumatore sia a livello di chi fa pubblicità e girano bene o meglio fanno girare bene anche lo shopping su edge hanno lanciato la funzionalità per fare comparazione dei prezzi e per ottenere i coupon e hanno detto che tutte le persone che hanno utilizzato edge e queste funzionalità hanno risparmiato 800 milioni di dollari dalla pubblicità negli ultimi 12 mesi includendo linkedin hanno fatto 10 miliardi escludendo total acquisition cost 10 miliardi dalla pubblicità è una cifra veramente notevole hanno fatto in pratica più di pinterest twitter e snapchat messi insieme cioè sulla pubblicità che non è core business loro poi hanno questo xandre sempre a livello marketing advertising non l'ho mai visto sinceramente neanche gli altri prodotti a dire la verità ma è solo per dire che loro sono ovunque fanno tutto quanto e sono ultra diversificati quindi non vanno sottovalutati passiamo al cybercrime cyber security dice cybercrime è la prima minaccia ogni business deve affrontare al giorno d'oggi e quindi stanno implementando un'architettura zero trust comprensiva per proteggere le persone i dispositivi le applicazioni eccetera eccetera su tutti i cloud e sugli ambienti dei clienti vari zero trust significa zero fiducia significa che non ci si può fidare di nessun account a livello del sistema poiché l'account potrebbe essere malevolo o comunque potrebbe esserci stata una sostituzione di persona o potrebbe essere stato infettato da qualcuno insomma loro partono dal presupposto che niente sia sicuro e neanche l'account dell'amministratore delegato potrebbe non essere compromesso qui hanno incorporato la sicurezza by design in ogni prodotto che costruiscono a monte loro fanno sì che il prodotto sia già pensato per non avere possibilità di essere bucato è chiaro che è tutto un discorso teorico e di marketing però loro premono a dire che ci hanno già pensato a monte alla sicurezza qui hanno le loro soluzioni avanzate sui vari cloud sulle varie piattaforme che integrano 50 diverse categorie tra sicurezza compliance identità gestione dei dispositivi privacy e hanno detto che ogni giorno sono arrivati segnali di minacce per oltre 24.000 segnali dicono che sono leader nella sicurezza in tantissime categorie un miliardo di utenti ogni mese utilizza l'account di microsoft per accedere con sicurezza ai loro prodotti 15.000 clienti utilizzano il loro cloud nativo SIEM che è già integrato con il sistema di sicurezza Microsoft Sentinel per limitare le minacce ben prima che accadano crescita del 70% anno su anno e ovviamente integrando tutte queste soluzioni in un unico posto in un unico punto i clienti riescono a risparmiare il 60% rispetto ad utilizzare delle soluzioni utilizzando più fornitori quindi questo è bearish per i fornitori di sicurezza informatica perché dicono noi vi costiamo molto meno delle alternative a livello di sicurezza hanno fatto 15 miliardi di fatturato altra cifra monster 12 mesi cresciuto del 45% anno su anno e qui se prendi Fortinet se prendi CrowdStrike se prendi Octa se prendi Palo Alto e le sommi queste 4 aziende fanno meno di 15 miliardi di fatturato e anche qui secondo me sulla security molta gente l'ha un po' trascurata diciamo che poi su 170 miliardi di fatturato quelli che sono 15 miliardi non è tantissimo però a livello dell'industria della sicurezza se Microsoft è la seconda terza azienda più grossa del mondo un motivo secondo me passiamo al gaming Pass che è il servizio in abbonamento a 25 milioni di utenti tra pc e console ultima stagione hanno avuto dei titoli super mega 18 milioni hanno giocato Forza Horizon 5 20 milioni hanno giocato Halo Infinite ed è stato il miglior lancio di Halo nella storia su Activision Blizzard dicono che vogliono metterlo appunto sul loro sistema che vogliono anche trasformare il futuro del gaming mentre le piattaforme si sviluppano in concomitanza con il metaverso e qui il messaggio di chiusura le tecnologie digitali come percentuale del GDP mondiale continuano a crescere stanno innovando stanno investendo in mercati diversi e in crescita che al di sotto hanno una tecnologia sottostante e un modello operativo che rinforza la nostra strategia comune la cultura e il nostro il nostro senso di scopo la nostra motivazione quindi ha parlato la CFO e la faccio breve perché il video sta diventando troppo lungo la cosa che ha colpito me è stato che è cresciuto del 16% il numero di addetti poi la conference call con le domande degli analisti secondo me è stata un po' noiosa nel senso era chiaro quanto meno che questi analisti non capissero molto della grandezza di questa presentazione e hanno fatto delle domande un po' passeggere ballerine ad esempio cosa pensi di Omicron cose senza senso questa è stata una risposta che ha dato Satya che si è un po' sbilanciato anche perché molto spesso ripetono sempre quello che hanno detto prima che gli hanno scritto in anticipo e qui ha detto la prima ondata di internet ha consentito a chiunque di costruire un sito internet noi crediamo che la prossima ondata di internet sarà un mondo aperto dove le persone possono costruire il loro metaverso sia che siano organizzazioni sia che siano sviluppatori di giochi o chiunque altro e su questo punto vorrei soffermarmi due secondi se Microsoft pensa che questo è il futuro del metaverso e cioè ci saranno tantissimi metaversi ognuno avrà il proprio metaverso al pari di persona ogni organizzazione che ha un proprio sito internet loro cosa faranno loro daranno lo strumento per costruire il metaverso quindi sì loro dicono noi abbiamo il nostro metaverso che creiamo però poi vi aiutiamo a costruire tanti piccoli metaversi diversi e questo secondo me sarebbe ribassista per i vari metaversi già creati basati sulle crypto sul web 3 prima cosa perché ci saranno molti più metaversi del previsto e quindi dovrebbe anche venire meno lo scenario winner takes all in cui decentraland sandbox o cose così hanno i terreni che valgono milioni di dollari e quindi i token collegati probabilmente non varranno quasi niente o varranno molto meno tra 10-15 anni a differenza di tutti i sogni che stanno vendendo in questo momento seconda cosa microsoft ha capito che nella corsa all'oro tu non vai a scavare per l'oro ma vai a vendere i picconi o le pale e allora loro si stanno posizionando per dare la possibilità a chiunque di fare questo metaverso e qui c'è un altro tema ovvero verrebbe meno la decentralizzazione del web 3 poiché a quel punto lì ti stai comunque appoggiando a microsoft per fare il tuo metaverso bene spero vi sia piaciuto questo video spero sia informativo fatelo girare il più possibile sicuramente un'azienda da cui imparare come si fa imprese come si genera valore per il mondo se sono tra i più grossi al mondo c'è un motivo grazie per essere arrivati fin qui un abbraccio virtuale ci sentiamo presto ci vediamo presto ciao a tutti